ehi dov'è Tati? vado a cercarla mi serve una zucca per fare una torta zucca di zucchero 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 oh eccola che cos'è quella tenda rossa che ci fa qui quella porta chissà dove condurrà eccoci Tati misifu sai dove conduce per caso questa porta non lo so Tati è la prima volta che la vedo misifu tu che ne pensi pensi che dovremmo andare ad esplorare che c'è dietro quella porta oh sembra una bella avventura ci sono altre tre porte oh i tre porcellini mi piacerebbe conoscerli wow che bello wow guarda guarda Tati arrivano presto correte ragazzi il lupo ci insegue oh quel lupo ha un aspetto familiare sono d'accordo salterò e poi pop e poi pop e poi pop lili non sono lili sono il grande lupo cattivo sono molto strani forse vengono da un'altra favola oh è stato strano Tati perché non andiamo a conoscere cappuccetto rosso sì sì guarda misifu eccola bel lupetto dove sei andato lili cosa non di nuovo non sono lili sono cappuccetto rosso cappuccetto rosso che c'è in quel cestino per tua nonna quale nonna io sto portando questo al mio amico il lupo perché gli ho fatto una torta di fango davvero gustosa volete vederla e avete visto il lupo no non l'abbiamo ancora visto liupetto eccoti qui non ho tanta fame anche questa favola è un po' strana misifu secondo te lili è anche cenerentola andiamo a vedere cenerentola siamo contenti che tu sia proprio tu ciao ragazzi avete visto la mia fata madrina sono in ritardo per il ballo eccomi cenerentola lili di nuovo chi è lili io sono la fata madrina piacere di conoscervi e che cosa farai fata madrina con i miei poteri magici farò in modo che cenerentola abbia un bellissimo vestito per andare al ballo brilla brilla fiocchino oh wow questo vestito è un po' insolito oh quasi dimenticavo avrà bisogno anche di belle scarpette brilla brilla fiocchino bene questo topolino sarà un cocchiere perfetto brilla brilla ciambellina oh misifu credo che sia meglio fare una visitina a lili quanto prima sì lo penso anch'io tatti beh è stato divertente e anche un po' strano e ora cenerentola è pronta per andare al ballo lili che stai facendo? stascia la leggendo delle storie sei sicura sia tutto qui? beh in realtà ho aggiunto qualche elemento per rendere tutto un pochino più interessante oh oh lili devi lasciare le favole esattamente come sono oh tatti va bene brilla brilla ciambellina tutte le favoline torneranno come prima oh cos'è questo posto? oh credo sia arrivato il momento di usare la mia magia brilla brilla stellina tutti i personaggi torneranno alla storia di prima ah oh oh eh mi è venuta voglia di leggere una fiaba già allora sì ah mi è venuta voglia di leggere un pochino